Buongiorno di esserci, buona giornata. La conferenza stampa l'indiciamo, sapete perché? Perché abbiamo ricevuto questa lettera firmata dal prefetto di Alessandria in cui i comitati notab terzo valico, tengo a fare subito questa precisazione, i comitati notab terzo valico della provincia di Alessandria, questo lo dico perché è una delle ragioni per cui poi ci porta alla decisione che vi comunichiamo, gli viene chiesto di partecipare all'incontro che si svolgerà lunedì alle ore 15 con il ministro delle infrastrutture LUPI. Come voi sapete a questo incontro sono stati invitati i sindaci territori interessati dall'opera, sempre da parte piemontese, presidente di regione, assessori regionali, presidente di provincia, assessori provinciali, sindacati, confindustria, associazioni ambientaliste e da ultimo, perché sapete che inizialmente non era previsto l'invito ai comitati notab terzo valico, hanno deciso di estendere l'invito anche a noi. Sono stato convocato io in prefettura e mi è stata data una lettera con la preghiera di allargare l'invito a tutti i comitati che come viene spiegato appunto nella lettera viene definita la società civile della provincia di Alessandria. Noi intanto facciamo una considerazione che è questa, per la prima volta qualcuno istituzionalizza che in questa provincia esiste una forte opposizione popolare organizzata che lotta contro il terzo valico. Talmente forte e talmente radicata che sono costretti, noi diciamo anche un po' per avere un minimo di coscienza pulita davanti alla cittadinanza, a dire che non si può discutere di terzo valico senza invitare i comitati a incontrare il terzo valico. E quindi secondo me, secondo noi questo è un primo passaggio, è l'ennesima dimostrazione di forza che noi prendiamo e portiamo a casa e ci fa piacere naturalmente che l'invito sia arrivato perché dimostra, se ancora ci fosse bisogno, che anche quelli che vogliono costruire il terzo valico sanno che con noi nel bene o nel male i conti dovranno farli. E quindi diciamo così, a volte potrebbero usare il bastone, altre volte potrebbero usare la carota. In questo caso noi sembra che stiamo usando la carota perché ci dicono cari non dà il terzo valico, venite a discutere con noi. La seconda cosa che noi diciamo, vi chiediamo, ma proprio la chiediamo innanzitutto a voi giornalisti che voi sappiate che i cittadini sono invitati a questo incontro, se voi avete dei dubbi vi rispondiamo noi che i cittadini non sono invitati a questo incontro. Ancora una volta la classe politica che vuole costruire il terzo valico e che schiera i pezzi da 90 facendo venire il ministro Lupi ad Alessandria a parlare, a metterci la faccia, ancora una volta quella classe politica ha una tremenda paura di confrontarsi con la cittadinanza. Ancora una volta quella classe politica non ha il coraggio di presentarsi davanti ai cittadini di Arquata, di Saravalle, di Novi, di Tortone, di Pozzolo, di Alessandria e dire a loro il terzo valico serve signori, il terzo valico noi lo vogliamo fare, il terzo valico noi lo vogliamo costruire. E sapete perché non invitano la cittadinanza? Ufficialmente perché dicono che non ci sarebbe stata una sala sufficientemente grossa per accogliere tutti i cittadini che magari potevano avere interesse di andare ad ascoltare che cosa Lupi insomma a lunedì si troverà a dire nel suo incontro. In realtà noi diciamo che probabilmente se avessero voluto aprire l'incontro ai cittadini avrebbero potuto affittare uno dei tanti cinema che ad Alessandria ci sono, uno dei tanti cinema che ospitano centinaia di persone, avrebbero potuto indire quell'incontro non alle ore 15 perché la gente normale come noi lavora, a differenza di loro, dei politici che sono pagati per fare i politici, per fare conferenze, la gente comune alle ore 15 del lunedì normalmente deve lavorare. E diciamo così, e se dobbiamo anche prendere delle ferie, noi le ferie preferiamo prenderle quando le aspetteremo a voltaggio, quando apriranno i cantieri o quando saremo di nuovo in strada a bloccare gli espropri. E quindi ancora una volta quello che ci stanno spiegando è che la discussione sul terzo valico deve essere una discussione a porte chiuse. Vi potremmo raccontare, come lo sapete benissimo anche voi, che in 20 anni quasi mai è stata fatta un'assemblea aperta al pubblico, perché questa classe politica ha una tremenda paura di confrontarsi con i cittadini e quando ha provato a farlo, per esempio a voltaggio, quando è venuto Lupi l'altro, il commissario del governo, ne sono usciti con le ossa rotte, oppure quando il sindaco di Ronco fece l'assemblea, Ronco scrive, quell'assemblea si concluse con il sindaco che balbettando ha chiuso il microfono, dicendo no, non c'è tempo per discutere, perché le ragioni dei notab, se è chiaro non abbiamo mai impedito a nessuno di parlare, ogni qualvolta la controparte ha fatto un'assemblea e abbiamo sempre lasciato parlare tutti, dopo che abbiamo ascoltato abbiamo parlato noi. E ne sono sempre usciti un pochino con le ossa rotte, perché diciamo così, non esistono le motivazioni per cui ha un senso oggi sostenere la bontà del terzo valico. Un'opera immaginata nel 1991 che facendo i conti rispetto ai finanziamenti che ci sono probabilmente vedrà fino nel 2134 e che, diciamo così, servirà ancora, non si riesce a capire, non si riesce davvero a capire qual è il senso se non il solito, 6,2 miliardi di euro, che i soliti noti, i plegili o i cocib, 6,2 miliardi di euro dei soldi delle nostre tasse davanti ad una crisi sociale ed economica devastante, perché di questo stiamo parlando. Guardate, secondo noi hanno fatto un'operazione e noi gli riconosciamo che sono stati molto bravi, hanno pensato di dire noi invitiamo i sindacati, intanto i sindacati quelli che ancora oggi dicono bisogna fare il terzo valico perché le edilizie in crisi pensano di rappresentare i lavoratori, hanno detto invitiamo Confindustria, perché Confindustria pensa di rappresentare gli imprenditori, gli mancavano un po' i cittadini perché loro lo sanno che questa classe politica corrotta non è in grado di rappresentare i cittadini e i sindaci che andranno a quell'incontro sanno che i cittadini di questi territori non pensano a quello che pensano i sindaci. Allora si sono inventati che invitavano i notab in rappresentanza dei cittadini, ma lo diciamo forte e chiaro, i notab non vogliono rappresentare i cittadini. I notab sono un movimento, un movimento popolare, un movimento grande, un movimento forte probabilmente, ma lungi da noi l'idea di essere noi rappresentanti della società civile. Noi siamo una parte di questa società, una parte schierata, che lotta contro l'opera e la realizzazione dell'opera, ma la classe politica quello che deve fare non deve incontrare i cittadini che magari secondo loro noi rappresentiamo, quelli contrari all'opera. La classe politica deve incontrare tutti i cittadini, quelli contrari, quelli favorevoli, quelli che hanno dei dubbi, quelli che vengono espropriati, quelli che non si sono ancora fatti un'idea e a distanza di 20 anni da quando hanno detto che vogliono costruire questa opera siamo ancora al punto che dicono apriremo i cantieri, a Genova qualche cantiere è stato aperto qua da noi, come sapete no, e dovevano ancora spiegare alla gente se il terzo valico serve. E quindi come dire, i cittadini a questo incontro non potranno andare, questo deve essere chiaro e guardate che la nostra storia, che è la storia di questi due anni di nuovo ciclo di movimento contro il terzo valico parla tutta un'altra lingua, per noi democrazia non è l'unione a porte chiuse, per noi democrazia è partecipare, per noi democrazia è discutere, per noi democrazia è che tutti quelli che vogliono partecipare a un incontro, devono avere il diritto di partecipare a quell'incontro e la storia del movimento contro il terzo valico racconta finalmente che il meccanismo della delega per cui delego qualcun altro ad occuparsi della sua vita, della sua salute, di quello che succederà sul proprio territorio, questo movimento ha messo in discussione una volta per sempre, noi speriamo, questo meccanismo. E quindi come dire, non siamo i rappresentanti dei cittadini. E poi diciamo così, una terza questione che è una questione importante, si legge nella lettera di invito, vado testualmente così almeno nessuno mi può accusare di dire delle inesattezze, incontrerà lunedì 28 ottobre alle ore 15 presso la prefettura di Alessandria le componenti istituzionali e rappresentative della società civile di questa provincia, al fine di delineare gli aspetti più salienti dell'opera, con particolare riferimento alla rilevanza strategica della stessa nel quadro delle politiche di sviluppo del territorio. Secondo noi la rilevanza strategica del terzo valico non esiste, non c'è, questo non è un incontro, come dicono loro, in cui si vuole discutere, in cui vuole essere un confronto, questa è la riunione di quelli che il terzo valico lo vogliono costruire e sono talmente democratici e talmente buoni e hanno la coscienza talmente sporca che allora, per dimostrare come dire che viviamo in un paese normale, dove in 20 anni non hanno mai fatto un'assemblea con le persone, ma adesso che vogliono aprire i cantieri, invitano addirittura in ottobre ad un incontro, ci spiegano che dobbiamo sederci tutti intorno a un tavolo a discutere, e se è chiaro noi li lanciamo in avanti, noi lo chiediamo al governo di tornare a sederci intorno a un tavolo a discutere, una discussione che parta però da una domanda che è una domanda fondamentale, il terzo valico serve sì o no? E se vogliono fare una discussione, questa discussione deve anche prevedere quella che viene definita l'opzione zero, quindi deve essere definito che davanti ad un'opera rispetto a cui non esiste uno studio sui rapporti costi-benefici, che diciamo così è stata pensata 20 anni fa, che vedrà la luce forse fra 50 anni, oggi se ci fosse un governo degno di questo nome in questo paese, deciderebbe di aprire un tavolo con studiosi indipendenti, con le parti interessate, per dire discutiamo, ragioniamo se il terzo valico serve ancora, e guardate ogni qual volta a noi ci è stato chiesto di discutere nel merito se il terzo valico era utile o non era utile, addirittura quando ci è stato chiesto di sederci ai tavoli con la controparte, sempre pubblicamente, se è chiaro, mai nelle segrete stanze, noi non abbiamo mai rifiutato degli inviti, nessuno dica che noi rifiutiamo il confronto, noi lo diciamo a tutti, organizzatelo voi giornalisti in confronto, in cui chiedete a noi, ai sindaci favorevoli, al coci, di sedersi intorno al tavolo e discutere, noi il confronto lo alimentiamo ogni settimana nell'assemblea pubblica e nell'assemblea popolare di cui voi siete testimoni, partecipano sempre centinaia di persone, però guardate questo qua non è un confronto, questa qua è un'assemblea che io definisco un teatrino, dove il ministro Lupi verrà a dirci che il terzo valico deve essere fatto, dove quelli che andranno a quella riunione saranno le comparse di un teatro dove ci sarà un unico grande protagonista, questo lo capisce anche un bambino, che sarà il ministro Lupi, vediamo se metterà anche il caschetto giallo in testa, siamo curiosi di vederlo, perché non lo dimentichiamo che il ministro Lupi è andato a Chiomonte in Val di Susa con il caschetto giallo a dire che il TAV si deve fare senza se e senza ma, perché come dire, Lupi è quella cosa lì, Lupi è comunione e liberazione, Lupi è i poteri forti di questo paese, Lupi è un ministro che mai rinuncerà alla costruzione, nel TAV in Val di Susa e neanche meno del terzo valico da noi. E guardate, c'è una cosa che per noi è stata veramente carina, sapete che noi abbiamo le TAV, insomma, lo TAV Leaks, insomma, nascondono i documenti, i sindaci, gli amministratori comunali, ma i documenti noi li tiriamo sempre fuori. C'è qua un documento ieri, è un documento, voi sapete che se tu fai un file su internet, poi rimane scritto chi è l'autore, se non hai, diciamo così, se non ti poni il problema di nasconderlo. Questo documento lo fa un tale Alberto, io non so se voi, il nome tale Alberto, sarà mica Mallarino ci viene il dubbio, il consulente pagato non si sa bene da chi, giornalisti vi preghiamo, chiedete voi a Mallarino chi lo paga per fare il consulente dei sindaci favorevoli al terzo valido. Perché guardate, questa cosa qua dovrebbe finire, no? I sindaci si fanno scrivere il compitino da Mallarino che gli dice, cari sindaci, questo è un promemoria che io vi do per ricordarvi che cosa dovete dire all'incontro col ministro Lupi. Quali sono le ricadute reali in provincia di Alessandria? Qual è la definizione delle ricadute sul territorio? Come riusciamo a coinvolgere l'RFI? La progettazione esecutiva per lotti? L'adozione in deroga delle delibere del CIFE? La riduzione del consumo di suolo? A proposito, parlano di un ruolo fondamentale per la stazione di Novi Ligure, in un bel di Susa vogliamo fare la stazione internazionale di Susa, qua a Mallarino si sta inventando che faremo la stazione forse internazionale perché se lo sapete, al terzo valido andremo a Rotterdam e quindi avremo la stazione internazionale di Novi Ligure probabilmente. E quindi il buon Mallarino, che lo ricordiamo, il buon Mallarino è uno che non è eletto da nessuno, è un consulente che non sappiamo neanche da chi viene pagato, manda il compitino ai sindaci che lunedì si presenteranno all'incontro col ministro Lupi, voi ne sarete testimoni perché noi non ci andremo all'incontro col ministro Lupi e i sindaci reciteranno questa ottima parte, diranno oh caro Lupi dobbiamo migliorare le cose, dobbiamo abolire lo shunt, dobbiamo coinvolgere la popolazione, però intanto dobbiamo aprire i cantieri, perché intanto in Ligure i cantieri li hanno già aperti e adesso vogliamo aprire i cantieri a voltaggio. Quindi diciamo così, questa è la situazione a cui siamo davanti, per tutte queste ragioni noi non ci presenteremo all'incontro col ministro Lupi, per tutte queste ragioni ribadiamo di essere a completa disposizione per qualsiasi tipo di confronto pubblico, che non sia una cosa falsa, cioè che non sia una cosa falsa e un tetrino come sarà l'incontro di lunedì, per tutte queste ragioni noi lunedì non manifesteremo davanti alla provincia di Alessandria, perché come dicevo prima le nostre giornate di ferie ce le teniamo per quando proveranno ad aprire quel cantiere a voltaggio e sia chiaro noi glielo lasceremo aprire, le nostre giornate di ferie ce le teniamo per quando se mai troveranno il coraggio, decideranno di rimandare gli espropri a Borgo Fornari, ad Arquata, a Saravalle, a Gavi, espropri che se non fanno non possono aprire i cantieri. Le nostre giornate di ferie ce le terremo per quando verranno a Radimero, al presidio di Arquata, a prendere possesso dei terreni in cui vorranno un giorno mettere la talpa per scavare la galleria di Valico. Quindi come dire, loro fanno il loro teatrino, Lupi verrà a dire che va tutto bene, quel terzo Valico bisogna partire, non verranno presentati gli studi sull'amianto, vedrete se mi sbaglio. In quella riunione non verranno proiettate le slide in cui diranno abbiamo fatto i sondaggi sull'amianto, state tranquilli, l'amianto non c'è, perché loro lo sanno che l'amianto c'è, perché noi l'abbiamo dimostrato ampiamente con gli studi dei nostri ingegneri, che l'amianto lì è presente e c'è. Ora forse qualcuno racconta la storiella che sì, forse è vero, l'amianto c'è, però dove dobbiamo scavare la voltaggio in quel punto lì preciso non c'è. Ok, allora scaviamo 100 metri a voltaggio, poi quando troviamo l'amianto cosa facciamo? Che cosa c'è? Un cartello luminoso che informa i tecnici del cocilio. Attenzione, amianto, abbiamo trovato l'amianto. E soprattutto, guardate, chiedeteglielo voi ai sindaci, ma nessuno è imbarazzato ad andare a voltaggio, su al cantiere di voltaggio, al foro pilota e a incontrare i signori della Lauro S.P.A., che è la ditta che ha il subappalto da parte di Cociv, ed è gente che ad agosto, non dieci anni fa, viene incriminata per truffa gravata ai danni dello Stato. Rubiano non c'è avuta vergogna di andare a stringere la mano alle persone incriminate da una procura di questo Stato per truffa gravata ai danni dello Stato? Il sindaco di Saravallo non c'è avuta vergogna? Perché guardate, questa è una bella domanda che ci dobbiamo fare, non ci sono ancora arrivati a dire che qua siamo dei terroristi, siamo tutti quanti illegali, ci arriveranno presto a raccontarci questa storia. Dopodiché di qua c'è la storia dei cittadini, che sì, anche a volte travalicando le leggi, perché sappiamo che bloccare gli spropri non è una cosa legale, hanno sempre manifestato, l'hanno sempre fatto in modo pacifico, hanno fatto cortei di migliaia di persone dove raccoglievamo le cose buttate per terra durante il corteo, il pacchetto di caramelle, una cosa di questo tipo. Dall'altra parte invece, quelli che vogliono che fra un mese, vedremo quando sarà, iniziano a scavare a voltaggio, insomma sono persone della lauro SPA, fate voi una ricerca su Google perché noi siamo anche un po' stanchi, diciamo così, di essere noi a dover fare l'inchiesta, essere noi a dover spiegare, qualvolta esce fuori il nome di una ditta coinvolta a quei lavori del terzo valico, si tratta sempre di qualcuno che non ha mai le mani pulite, mai, e mai le avrà. E allora niente, noi diciamo le nostre cose, noi andiamo avanti serenamente con il nostro passo, abbiamo un'importante assemblea questa sera a Isoverde, dall'altra parte dell'Appennino, dove a Isoverde si discuterà di nuovo con la cittadinanza di che cos'è il progetto del terzo valico, abbiamo un'altra importantissima assemblea a Tortona, giovedì il 31 ottobre, dove di nuovo, diciamo così, indetto dal comitato di Tortona, dove si parlerà del problema delle cave, che Tortona è un territorio ricchissimo di cave, dove vorranno portare un sacco di emianti, e abbiamo come dire una grande giornata, che è la giornata del 9 ottobre, il 9 novembre, scusatemi, il movimento torna in piazza, torna in piazza in Liguria, lo fa a Ponte Decimo, dal Piemonte organizziamo i pullman, siamo sicuri che riempiremo diversi pullman per andare a raggiungere l'altra parte del movimento, l'altra metà del movimento contro il terzo valico, al di là dell'Appennino, a cui lascio subito la parola, anche perché nessuno pensi di poter invitare a un confronto il movimento notave terzo valico, dividendolo tra Piemontesi, Genovesi, Balverdini, gente della Valle Scrivia, Valle Mini, noi siamo l'unico grande movimento notave terzo valico, che sta in Valle, che sta in Valle Scrivia, che sta in Valle Verde, che sta in Valle Polizia. Quindi diciamo così anche lì, gli incontri con i ministri, insomma, sarebbe stato certamente più corretto invitare il movimento notave terzo valico e non solo una parte di quel movimento. Appoggiamo pienamente la scelta di non partecipare a questo invito, perché è prioritario il fatto che il rischio enorme è quello di essere sentiti fintamente. A porte chiuse significa che non ci verrà sicuramente data nessuna risposta e loro hanno l'arma di poter dire che ne hanno discusso. Con noi non discutono, da noi i cantieri sono stati aperti, alla popolazione non è stato detto nulla, la popolazione è allo scuro di quello che succede e continuano a dire che la maggioranza della popolazione ritiene prioritaria la costruzione dell'opera. Noi pensiamo che non sia così e noi il 9 di novembre lo dimostreremo con una manifestazione che arriverà proprio in uno di questi cantieri che hanno aperto. Io non riesco a capire come come sia possibile continuare a nascondere, eppure ce la fanno benissimo. Quest'opera costa il doppio e se tra l'altro si è in seguito. Già sono due domande che penso che finché non ci ha risposto a questo non ci siamo. La cosa che è importante anche sottolineare è che da noi continuano a dire che comunque sia passerà da noi, comunque sia lo faranno. io penso che questo in democrazia non sia assolutamente tolerante, non è vero e non sarà così. Basta. Quindi vi aspetto tutti e noi. Una cosa importante secondo me, per quel che riguarda questo diritto, è legata a quale sarebbe il ruolo? Cioè, perché invitano il movimento non personale come da? Lo invitano per fare il ruolo della garanzia della loro democrazia. Cioè non ascoltano quello che noi diciamo, non tengono presente minimamente quello che dice la popolazione perché sono state un ruolo di manifestazioni, sono state sempre strapieni di gente, comunque non tengono presente per fare questo, ti invitano perché poi possono dire abbiamo deciso di farla ma c'erano anche loro. E questo giochino sinceramente, quello di fare gli utili idioti è veramente ridicolo e noi non possiamo assolutamente accettarlo. Noi crediamo che la popolazione, noi crediamo che la gente, noi facciamo parte della popolazione, non siamo quelli che la rappresentano, devono decidere della loro vita e non far decidere della loro vita a persone che sono legate principalmente a determinati principi, il denaro, il guadagno e arricchire determinati personaggi. Questo è evidente da tutto quello che abbiamo detto fino adesso. È evidente che dietro il terzo valico, dietro il tavolo generale c'è sempre qualche cosa di non proprio lucido, di sporco. Sì, ma io molto storicamente perché ho già detto praticamente tutto Claudio, noi anche da novi ripetiamo intanto questa logica per le riunioni a porte chiuse, noi ne abbiamo sempre invitati in un confronto aperto, la cittadinanza ce l'hanno sempre negato, tranne quella volta a Bordo Fornari, come diceva Claudio, in cui vennero, annunciando un giorno o due prima la loro presenza e è venuto a sapere la cosa, una piccola rappresentanza del movimento è andata e li ha svergoniati, insomma li ha fatti proprio letteralmente vergognati davanti alla cittadinanza di Bordo Fornari. Questo forse spiega il motivo per cui non vanno più in giro le riunioni a porte aperte. Però come hanno detto loro prima, partecipare a questa cosa avrebbe significato in qualche modo dargli un motivo, dargli un modo per dire che loro hanno sentito la società civile, i cittadini e quindi possono andare avanti con l'opera a fuori leggero. Dicono tante cose, le dice il Cocib, le dicono i sindaci, i sitav che non rispondono al vero e anche su questo vi prego come ha fatto Claudio di fare alcuni approfondimenti perché ci sono alcune grosse inesattezze che sono passate come delle verità negli ultimi mesi. Quella dei cantieri, a Genova dicono di avere aperti i cantieri, dicono che il terzo agricolo si sta già costruendo, lui probabilmente arriverà in prefettura dicendo questo, guardate che discutiamo, tra l'altro siamo già partiti, Ligure c'è un po' di rete arancione e nient'altro. Io parlo per gli aspetti che conosco meglio del progetto, quindi vi parlo di Novi, il sindaco di Novi si è speso molto su queste presunte migliorie che lui vorrebbe apportare a tracciato l'abolizione dello schunt e il trasporto dello smarino su rotaio. Quello che lui e Mallarino stanno andando a dire in giro e lo dicono anche i consiglieri, lo dicono i consiglieri perché poi i consiglieri quando parlano con i cittadini vanno ingenuamente a riportare queste cose, come quando vengono alcuni consiglieri comunali da noi ai banchetti ogni settimana e ci raccontano quello che hanno discusso in consiglio comunali dicendo delle castronerie allucinanti, perché evidentemente non hanno mai letto il progetto alcuni. Stanno facendo passare come cosa già fatta l'abolizione dello schunt, tanto per tirne una, che è quel tratto di 7 km che collega il ramo principale della linea con la linea storica che va verso Alessandri Torino. Non è vero, non è così, Novi ha fatto le sue osservazioni, ha fatto questa richiesta e questa richiesta ovviamente non è stata accettata, perché comporterebbe un mancato guadagno per coci di circa un miliardino di Euro, considerato che il prezzo al chilometro finora, al netto degli aggiornamenti a rialzo ci saranno futuri. Se il prezzo viaggio intorno ai 120-130 milioni di Euro al chilometro, per 7 km insomma siamo intorno a quella cifra di poco meno di un miliardo. Mallarino e Robiano vanno in giro a dire che lo schunt è già stato abolito, ma in realtà gli ultimi documenti del progetto, se andate a vedere sul sito del Ministero dell'Ambiente, gli aggiornamenti, i progetti esecutivi, tutti i fai che sono usciti ultimamente ce ne sono parecchi, noi continuiamo a analizzare, man mano che escono, parlano dello schunt come ancora facente parte del progetto. Anche perché senza di esso la linea perderebbe una delle sue direttive, quindi perderebbe una parte delle sue ragioni d'essere. Anche quella del trasporto dello smarino su rotaia è un'ipotesi, non è stata sviluppata, lo stesso Coci ne parla al condizionale nel progetto, non dice lo trasporteremo su rotaia, dice i sindaci ci hanno chiesto di fare questa roba via. E fa anche un'analisi di costi benefici, dicendo che fare i nastri trasportatori, adattare gli scali, riadattare il progetto alla necessità di trasportare via tutto lo smarino via treno, solo per pochi chilometri via treno, perché poi ovviamente nelle cave si dovrebbe andare ugualmente con i camion, costerebbe parecchi milioni di euro in più. La cifra mi pare che siamo intorno su centinaia di milioni di euro di maggiore spesa solo per questa cosa di trasportare per pochi chilometri lo smarino via treno, che non significherebbe nulla, anzi forse nel caso di Novi sarebbe ancora peggiorativo, perché i treni passano esattamente in centro, poi si fermano a San Bovo, San Bovo la zona dove si potrebbe fare l'accumulo di smarino, è proprio a metà strada tra Novi e Pozzolo, quindi secondo di come tiro al vento ci sarebbe questa montagna fatta di materiale potenzialmente ambientifero, che secondo me soffi al vento potrebbe scaricare dei polveri a Valla Pozzolo oppure a Monta. Non ho nient'altro a dire se non, come diceva Claudio, noi col Cochip siamo sempre disposti a parlare se questo presuppone il fatto che si possa rimanere in discussione all'opera, se stiamo parlando dell'opzione zero. Siccome non siamo nati ieri e sappiamo benissimo che Lupi, per le ragioni che diceva lui, non sarà mai disposto, Lupi per dire il governo, a trattare un'ipotesi di questo tipo, noi col Cochip non ci andiamo a parlare. Le andiamo a svergognare se vengono in pubblico e sanno il coraggio di venire a metterci la faccia davanti ai cittadini, e allora si diceva, altrimenti no. Se volete fare delle domande, siamo alla vostra disposizione.